Ciao a tutti, io sono Pierluigi, creatore di Vo' Apprendere Italiano e questo è il terzo video della serie Io ce la faccio. Partiamo da un concetto semplice che può sembrare addirittura banale, ma se noi vogliamo imparare una lingua dobbiamo concentrare l'attenzione sulla lingua stessa e non sulle regole su cui la lingua si basa. Pensate a questa cosa, tutti quanti noi conosciamo perlomeno una lingua, che è la nostra lingua materna. E come l'abbiamo imparata? Non certamente sui libri, non certamente partendo dalle regole, noi abbiamo cominciato a parlare semplicemente ascoltando gli altri parlare e cominciando ad imitare. Inizialmente ovviamente sbagliando, inizialmente imitando semplici parole o brevi frasi, brevi espressioni e poi piano piano abbiamo cominciato a mettere insieme i pezzi e abbiamo cominciato a costruire le nostre frasi utilizzando parole ed espressioni che avevamo inizialmente ascoltato e semplicemente imitato. Ora, prima che arrivi qualcuno e mi dica che non è possibile parlare una lingua senza conoscere la grammatica, io vorrei chiarire che non sto dicendo di abbandonare la grammatica, né tantomeno sto diffondendo una paura della grammatica o cose del genere, anzi io sono il primo che cerca di semplificare i meccanismi della lingua e portarli alla comprensione di tutti. Quello che io dico però è che la regola e la teoria ci deve essere, ma non deve essere il centro della nostra attenzione. La teoria e la grammatica devono essere piuttosto un supporto alla comprensione, ma noi dobbiamo mettere al centro la lingua. E cosa succede invece se mettiamo la grammatica al centro della nostra attenzione? Io direi che ci sono perlomeno tre effetti negativi. Il primo effetto negativo è sicuramente sulla motivazione. Per farvi capire questo concetto vi faccio una semplice domanda. Voi preferireste passare, non so, trenta minuti studiando una coniugazione verbale e quindi ricordando a memoria una coniugazione verbale, oppure preferireste passare trenta minuti ascoltando e leggendo un audio e un testo in italiano su un argomento di vostro interesse. Non so, pensate ad esempio a qual è la vostra passione, ok? Quindi un argomento di vostro interesse in italiano. Ora, datevi da soli la risposta. Io penso che non debba aggiungere nient'altro su questo concetto, su questo argomento. Il secondo effetto negativo sta nella difficoltà ad usare praticamente la lingua. Lo studente si concentra sulle regole che ovviamente memorizza in modo assolutamente meccanico, ma poi non riesce a tradurre queste regole in modo pratico. Magari è anche bravo a fare gli esercizi, che però vengono fatti in modo assolutamente meccanico, ripetitivo, perché lo studente capisce la logica dell'esercizio e la applica, ma poi soprattutto nel fare gli esercizi lo studente ha tutto il tempo del mondo per ragionare. E quindi nella frase io sono andato in Italia, pensa nella scelta dell'ausiliare, ausiliare essere, ausiliare avere, pensa alla regola, verbo di movimento, ausiliare essere, quindi scrive io sono andato in Italia, correttamente. Ma quando deve parlare deve sempre ripescare la regola nella sua testa e quindi ci impiega molto per esprimersi e quando dimentica la regola sbaglia e dice io ho andato in Italia. Questo succede perché non ha familiarità con la lingua, perché l'udito non è abituato, perché non sente gli italiani dire io sono andato al ristorante, io sono andato al cinema, io sono andato al lavoro. E quindi cosa succede? Conosce molto bene la regola, ma perde di vista quello che è l'obiettivo pratico di studiare e conoscere una lingua che è riuscire a comprendere gli altri e riuscire a comunicare con facilità. Il terzo effetto negativo sta nel fatto che si perde un sacco di tempo con cose perfettamente inutili. Perché? Perché non partendo dalla lingua viva, quindi dalla lingua parlata quotidianamente dagli italiani, ma studiando argomenti grammaticali ci si ritrova ad esempio nella situazione assurda di studiare, non so, il passato remoto del verbo cucire che lo studente probabilmente non ascolterà mai quando si troverà in Italia e né tantomeno dovrà mai utilizzare nel momento in cui comunicherà con gli italiani. Pertanto non dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle regole, ma dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla lingua. E come? Semplicemente ascoltando. ascoltando tanto, tantissimo l'italiano parlato dai madrelingua, che non è altro che quello che state facendo voi in questo momento. Ma attenzione, affinché questo ascolto sia realmente efficace, l'audio che voi state ascoltando deve essere comprensibile. Voi, ad esempio, in questo momento state ascoltando me, ma state anche leggendo quello che io vi sto dicendo e avete in più il supporto della traduzione che vi aiuta appunto nella comprensione del concetto che io vi sto trasmettendo. E perché l'audio deve essere comprensibile affinché questo ascolto sia efficace? Beh, insomma, la risposta è abbastanza chiara. Se noi non capiamo quello che stiamo ascoltando, noi non stiamo assorbendo la lingua. È come se io adesso accendessi la televisione e mi sintonizzassi su un canale tedesco. Io non capisco il tedesco, potrei ascoltare anche il tedesco per settimane o mesi, ma se io non capisco perlomeno una parte di quello che sto ascoltando, sto semplicemente perdendo tempo. Quindi, concetto fondamentale del video di oggi, cosa studiare? Bisogna ascoltare tanto, tantissimo italiano parlato da madrelingua e un italiano che sia comprensibile. Quindi, se voi fate giornalmente almeno 20-30 minuti di questo ascolto, voi assorbirete la lingua e il vostro cervello sarà in grado poi di combinare tutte queste frasi, queste parole, queste espressioni che voi avrete assorbito e sarà in grado di riutilizzarle in modo naturale. Quindi, tornando all'esempio del sono andato in Italia, se voi siete abituati ad ascoltare questa espressione detta dagli italiani, il vostro cervello avrà assorbito questa espressione e sarà in grado di riutilizzarla. Pertanto, al momento opportuno, voi direte naturalmente io sono andato in Italia. Non vi sognerete di dire io ho andato in Italia, perché semplicemente vi sembrerà anche strano, semplicemente alludito, no, questa espressione. A questo proposito, nel mio sito www.vopenderitaliano.com trovate gli audio in mp3 di tutte le mie lezioni e questi audio sono scaricabili sul vostro computer o sul vostro cellulare e in più troverete diversi articoli con audio in italiano, testo in italiano e traduzione in portoghese, proprio per fare questa attività di ascolto che vi sto consigliando. Bene, siamo in conclusione per il video di oggi. Sono convinto che se rispetterete anche questa regola e quindi concentrerete l'attenzione su quello che realmente dà risultato, riuscirete anche voi a farcela nel vostro studio della lingua italiana. Nel prossimo video parleremo di un fattore determinante per rendere questo ascolto ancora più efficace. Ci vediamo alla prossima. Ciao!